Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un avviso in cui dichiara che dopo l'esaurimento della perturbazione che ha interessato il territorio veneto tra mercoledì e giovedì, nella giornata di venerdì saranno ancora presenti condizioni di stabilità. Sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, specie nella seconda parte della giornata, ma con fenomeni più irregolari e discontinui. Si prevede criticità idrogeologica, stabilendo per venerdì, da mezzanotte alle 14, lo stato di attenzione all'erta gialla per i bacini Piave e Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione Alpone, Adige Garda, Montilessini, Po, Fissero, Tartaro, Canal Bianco e Basso Adige, Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave, Sile, Baccino Scolante in Laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. Alpone, Adige Garda